Non puoi farlo, ti abbiamo vista. Grande fratello VIP7, la regia scopre Oriana così. Prova da denuncia. Buffera al grande fratello VIP7 su Oriana Marzoli. La regia del reality show di Canale 5 l'ha sgridata perché rea di aver commesso un gesto che non è consentito. Il video nel quale viene richiamata da un'autrice è diventato virale in queste ore, così come la frase proferita da una coinquilina. La venezuelana ha subito compreso di averla fatta grossa e ha cercato subito di rimediare, ma ormai il rimprovero c'era stato davanti a tutti. Grande imbarazzo per la Gieffina, che si è comportata in maniera scorretta nella casa. Dunque, in una delle tante giornate vissute al grande fratello VIP7, Oriana Marzoli è finita nel mirino della produzione per un atteggiamento vietato. Intanto, sulla vippona è spuntato anche un clamoroso retroscena che coinvolge Antonino Spinalbese, lui ha detto che voleva uscire.